I nuovi svincoli di giostra visti dalla prospettiva di chi abita sotto i grandi viadotti sono un intreccio confuso di strade di cemento sospese. L'opera pubblica attesa per quasi un ventennio dai messinesi ed ancora da inaugurare sarà forse operativa nei prossimi mesi, ma intanto al di sotto delle nuove strisce d'asfalto c'è già una porzione di città che appare dimenticata e scontenta. Siamo in mezzo alla strada, aperte davanti, aperte dietro, tanto che noi ce ne siamo dovuti uscire dalla casa. Abbiamo i mobili, abbiamo tutto rovinato, nessuno ci viene incontro, non è possibile così, non è così giusto. Da quando hanno fatto gli svincoli nuovi la situazione è peggiorata perché per i rumori... Certo, è peggiorata perché ci hanno preso del terreno e non hanno fatto niente di buono per noi. Dovrà essere il commissario del comune Luigi Croce adesso ad interfacciarsi con Anas e Genio Civile per la risoluzione dei problemi che impediscono ancora il completamento di quanto portato quasi a termine dall'ex sindaco Giuseppe Buzanca. Ma intanto chi risiede sotto gli svincoli chiede che le visite istituzionali non si limitino sempre e solo ai viadotti. molti metri al di sotto ci sono cittadini che chiedono sicurezza e colate di fango da controllare in vista delle piogge. Svincoli strutturalmente ultimati ma non aperti per motivi tecnici che ancora devono essere oggetto di chiarimenti. Intanto visitando questi luoghi qui alla base dei grandi piloni si capisce quanto rimanga ancora da fare anche per la messa in sicurezza di queste case che sono al di sotto di questi giganteschi piloni. e osservando anche le colline che si affacciano proprio davanti alle case è facile prevedere che il fango potrebbe colare giù e quindi servono degli interventi di messa in sicurezza in tempi brevi.